Ho il piacere di nuovo di avere qui stasera accanto a me la poetessa, io ti chiamo e ti definisco poetessa Rita Pacilio, che ho conosciuto l'anno scorso già alla seconda edizione di Donne con la penna e che ritrovo molto volentieri quest'anno per la terza edizione con una nuova raccolta di poesie, Quel grido raggrumato per la vita felice. Allora Rita, Quel grido raggrumato, che cosa vuol dire? A chi si riferisce? Questa nuova raccolta conclude un percorso poetico che era cominciato con Non camminare scalzo, un lavoro in prosimetro, proseguito poi con Gli imperfetti sono gente bizzarra e quindi che si conclude o comunque arriva insomma con quel grido raggrumato, un percorso dicevo poetico e arriva a parlare di emarginazione, di sofferenza, di dolore, di devianza. Ho voluto attraversare empaticamente, così come ho fatto già con gli altri lavori, le storie dei bambini, delle donne, degli omosessuali, di tutti coloro che vivono trasversalmente il dolore e la sofferenza e quindi dare voce a coloro che non sanno urlare i propri percorsi. L'ho fatto da poeta o comunque ci ho provato, l'ho fatto anche da mediatore familiare, da sociologo quindi, con quella capacità o comunque ce l'ho messa tutta con il mio io lirico, facendolo combaciare con l'io etico sociale. Hai detto appunto che sei una sociologa, una mediatrice familiare, quanto c'è di questo, del tuo lavoro in questo libro, in questa raccolta? Beh, io penso che la materia umana, quello che è la persona, la professione, quindi il corpo personale con la materia poetica fanno sempre un corpo unico e come diceva Rousseau diventano appunto un vero e proprio corpo poetico, sempre in movimento e questo movimento diventa un qualcosa che va sempre verso un oggetto, una ricerca di un oggetto adeguato. Io sono convinta che questa ricerca è continua e che questo oggetto adeguato, secondo me, sono d'accordo con Rondoni, è sempre l'amore. C'è sempre dentro di noi la professione, quello che è il nostro studio, quello che è la nostra materia fondamentale. Noi ci portiamo dentro quello che siamo e non possiamo scenderci. Io nella mia poesia porto la mamma, il sociologo, porto la figlia. Come dico in un verso che ho scritto in Non camminare scalzo, io sono la madre, l'amante, la moglie e poi la figlia. Rosa mi chiamano ma nasco spina. Quindi penso che sono tutta. Sei una poetessa, sei una cantante, sei una sociologa, curi anche una parte per quanto riguarda la vita felice che riguarda appunto la poesia. Che cosa ti senti di essere di più tra tutte queste professioni? Qualcuno mi ha definito poliedrica. Io non lo so, credo, non lo so se sono presuntuosa a dirlo, però mi sento una figlia eletta dal cielo perché credo di aver avuto tanti talenti e lo voglio dire come una cosa bellissima, come un dono perché penso di aver avuto, secondo la parabola di Gesù, tanti talenti ed è una grande responsabilità quindi non la dico con una cosa di presunzione. Il mio papà che mi ha lasciato quando io avevo nove anni disse una cosa bellissima che ricordo con il suono preciso di quella voce Rita ha tanta buona volontà e ha tante doti. Io non capivo cosa significava questa frase, il senso di queste parole poi l'ho capito con il tempo, però è una cosa incredibile, sento la responsabilità ma non sento il peso allora quando mi sperimento nella critica letteraria che so che è un genere letterario che ha un grande peso io non sento di avere, non faccio fatica nonostante studio tanto per portare a compimento questo con dignità con responsabilità appunto e con precisione questo compito oppure quando faccio poesia quindi con studio, con rigore o quando faccio il sociologo o quando faccio la mamma o le altre cose nella mia vita, non lo so, cerco di farlo bene o quando faccio la cantante, la performer faccio tante cose, sì è vero, poi arrivo stanca ma sono contenta e alla fine dico Dio ti ringrazio per avermi fatto fare tante cose e poi sorrido e sono felice Qual è il messaggio che vuoi lanciare con questa raccolta di poesie? Il messaggio che voglio lanciare innanzitutto è di rinascita Alla fine dopo tanta sofferenza bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna rinascere, bisogna ricominciare e bisogna sempre avere la forza di poter dire esiste il male, esiste la sofferenza, esiste la violenza Esiste lo sgomento dopo tanto dolore, esiste purtroppo chi ha la forza di utilizzare il sopruso sugli altri Un sopruso che può essere sopruso sul corpo, sopruso psicologico, ci sono milioni di forme di violenza Noi dobbiamo agire contro tutte le forme di violenza, abbiamo un compito tutti, un compito di responsabilità dai piccoli ai grandi Allora il mio messaggio è utilizziamo la responsabilità sociale, civile, religiosa Tutti nella nostra missione umana utilizziamola, a prescindere la religione di appartenenza Abbiamo un compito umano in qualunque posto territoriale in cui ci troviamo Messaggio che condivido in pieno Rita, prima di salutare i nostri amici, anzi vogliamo salutare i nostri amici con una tua poesia? Ok, pochi versi, ho occupato troppo spazio Ok Una cosa leggera Qualcosa che ho già letto prima? Quello che vuoi, quello che più ti piace Ricorderà il suo peso affaticarsi, il raffreddore uscire dalla casa, quello spigolo di gomito avere fame, sete e digiuno Respirava il sapore della stalla, una tinta più forte della libertà Vorrebbe fare un fischio alla sua cagna, farsi leccare, semplicemente Quando si ruba la carne di un'altra, si procede in modo veloce e conserva il fiato Tace, aspetta il momento buono per smettere il gioco Prima le ginocchia erano strette e la schiena al suo petto era ferma all'indietro Una mano sulla bocca a tacere l'urlo, l'altra lia a setacciare il nome dall'impalcatura Pensava fosse così la morte, con le dita ad acciaio inanimata, senza voce Le galline nel pollaio lamentavano l'uovo e fremevano al godere disfatto del lattaio delle ore otto Dai suoi pantaloni sudici di mucca munta, lei scendeva taciturna e aperta come da una tempesta o una vetta Grazie Rita, poi a me piace molto come leggi tu le poesie, mi piace davvero tantissimo Ma grazie a te, a voi, grazie, un saluto a tutti e che sia pace sempre È vero, è vero, speriamo che i nostri amici lo capiscano E naturalmente ricordo a tutti i nostri amici l'ultima fatica letteraria di Rita Pacilio Quel grido ragrumato, poesie per la vita felice Di nuovo grazie A presto, ciao Grazie a tutti